tutta la storia si svolge nell'interno della donna qui si forma l'ovulo femminile senza spermatozoi l'ovulo si annoia a morte ma ecco che arrivano essi lottano per raggiungere l'ovulo a Gli acidi della vagina hanno eliminato i sopravvissuti La fecondazione non è avvenuta Questo è un preserv... un anticoncezionale La fecondazione non è avvenuta E questa invece è... la pillola Ma un bel giorno però Ecco il vincitore Ora c'è la prova dell'intelligenza Quattro Madonna! Finalmente la fecondazione è avvenuta! Quattro 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 La visita ginecologica Quattro 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 No, 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 no. E dopo nove mesi è ora di nascere. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ecco fatto, il bambino è nato. Sì, sì, sì. 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 Sì.